... Mercoledì 16 febbraio, Santa Giuliana di Nicomedia. È il 47esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 318 al termine. Il sole sorge alle 7.11, tramonta alle 17.39. La luna sorge alle 17.21, tramonta alle 7.30. Il Senato Veneto decreta l'istituzione di una scuola nautica, da cui avrà più tardi origine l'Istituto Nautico di Venezia, fondata allo scopo di preparare persone e atte a dirigere gli bastimenti. Dalla scuola uscirono quegli uomini che seppero ottenere alte le nobili tradizioni della marineria veneta negli ultimi anni della Repubblica. Le previsioni per domani. Nelle prime ore, varie nubi basse in pianura e probabilmente anche nelle vallate al prealpine. Per il resto, cielo da poco nuvoloso a sereno. Saranno probabili anche delle nebi in pianura e in qualche valle, specie durante le ore più fredde. Precipitazioni assenti, temperature, le minime in montagna aumenteranno. Sulle pianure a centro e meridionale caleranno un po' e altrove non vagheranno molto. Le massime sulle pianure a nord orientale saranno stazionarie o in leggero calo ed altrove aumenteranno, specie in montagna. Grazie. 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 Grazie.